Musica Allora eccoci arrivati al momento dell'ospite, oggi parliamo di Carnia Classic con due ospiti Gianni Burba e Gianluca Di Stefano, buongiorno e benvenuti a Ore 7 Allora ho detto oggi, ho introdotto dicendo che Ore 7 sarà un po' dedicata alla Carnia perché partiamo dal vostro evento sportivo e poi con una serie di eventi culturali con l'ospite che verrà più tardi Partiamo spiegando che cos'è Carnia Classic 2018 che è diciamo i blocchi di partenza perché si parte mercoledì 20 giugno Ma la Carnia Classic è una manifestazione ciclistica che è già la quindicesima o sedicesima edizione Gira tutte le strade della Carnia e ogni anno abbastanza itinerante cambiamo percorsi Ha come metà finale sempre la scalata dello Zoncolan che ormai è diventata famosissima un po' per il giro d'Italia Anche per merito del dottor Cainero che sta spingendo molto lo Zoncolan ma ha fatto bene Ha fatto bene, è stato un biglietto da visita non solo per la Carnia ma per tutta la regione insomma Sì, infatti lo conoscono ormai tutti la zona Zoncolan, è più conosciuto lo Zoncolan forse che il Friuli Questo è un po' un peccato ma un po' alla volta ci allargheremo, arriveremo anche fino al mare con questo Quindi una manifestazione ciclistica che è già da un po' di anni che noi però cerchiamo di allargarla Non solo alla pura manifestazione della domenica ma anche con eventi e altre prove sportive durante la settimana Parliamo del 2018, noi cominciamo già il mercoledì sera con una serata di presentazione del libro di Luigi Maheron Avremo anche la partecipazione di Mauro Corona che tutti chiaramente conoscerete Direi che Maheron e Corona a Tolmezzo sono amatissimi e seguitissimi Ecco qua questa coppia, no? Sì, sono bravi, simpatici, coinvolgono molto Questo sarà proprio la partenza delle serate, sarà già mercoledì sera alle 8.30 Nella nuovissima piazza 20 settembre di Tolmezzo Che ha avuto anche la partenza del Giro d'Italia 15 giorni fa Sabato scorso ha avuto anche una bellissima esibizione di moda Comunque partiremo il mercoledì lì Giovedì poi invece partiremo un po' con le gare e prove sportive Con la Carnia Classica anche alla terza edizione Dove abbiamo un centinaio di squadre di tre atleti cada una Ha avuto molto successo già la prima, poi la seconda e quest'anno contiamo ancora di più Si farà in notturna per le vie del paese Nei vicoli, nel centro storico Quindi è piaciuta molto e vediamo che ogni anno cresce sempre di più Questi percorsi li studiate voi praticamente? Li studiamo tutti noi, sia percorsi ciclistici, tutti quanti li studiamo noi Per quanto riguarda la RAN abbiamo il gruppo di piani di VAS Che si occupa lui, la società in specifico del percorso E noi gli facciamo da appoggio in questo senso Passiamo poi invece al giovedì Facciamo una prova di mountain bike sempre in notturna e sempre per il centro cittadino Con un'escursione nel bosco sopra Tolmezzo di Pracastello Quest'anno il trofeo è arrivato alla ventiquattresima edizione Per vent'anni l'ho seguito io e adesso lo segue Roberto Giazzon Sarà la prova in notturna, piace molto la prova in notturna per le vie del paese È proprio molto coreografico Beh, insomma è suggestivo, no? Esatto Anche questa pedalata Passiamo al sabato Sabato avremo nel pomeriggio Noi nel carne a bike abbiamo una branca che si occupa delle escursioni in MTB E abbiamo anche una scuola MTB gestita da Roberto Tomat Che faremo proprio, insegniamo ai ragazzini, ai piccolissimi Ad andare in mountain bike con delle prove tecniche, con ostacoli, gym can, eccetera Anche questo ogni volta ha molto successo I bambini che girano poi nel centro città è bello Piace, piace Subito dopo, questa è nel metà pomeriggio Subito dopo faremo una prova spinning in piazza Anche questa avremo 50-60 partecipanti Molto coreografico da vedere Tutti questi che pedalano sotto il sole, fra l'altro No? Quindi Per mettersi in forma direi che è l'ideale Si mettono sicuramente in forma Ah sì sì Poi invece la sera abbiamo uno spettacolo di cabaret Siamo riusciti ad avere la famosa cattiglia L'abbiamo vista prima Che sicuramente conoscete Con Moretti e Cossettini Questo sarà la sera dalle 8 e mezza alle 10 e mezza Quindi si ride anche Dopo tanta fatica e tanto sport Che però non è solo fatica, impegno ma è anche divertimento Abbiamo anche spettacolo Abbiamo anche spettacolo Ma insomma un programma ricco Sì sì è ricco Avremo anche una degustazione di tiramisù dalle 6 Quindi è offerta da un locale della piazza Passiamo alla domenica Esatto Abbiamo il percorso corto Il percorso lungo Il percorso extreme E un percorso ciclo escursionistico Ha aperto anche le e-bike Perché adesso vediamo che le e-bike hanno un buon ritorno Parliamo dell'extreme L'extreme non fa parte dell'Alpe Adria Perché noi nel nostro circuito siamo anche Alpe Adria Però ha la salita dello Zoncolan Quindi noi esatto Noi in questo percorso abbiamo voluto lasciare lo Zoncolan Perché noi ci chiamiamo Carnacassi E questa è la stessa salita del Giro d'Italia che abbiamo visto E sarà anche del Giro d'Italia femminile La salita sì Ma potrei dire che il percorso quest'anno rispecchia all'80% il Giro d'Italia Quindi gli atleti ci cimenteranno con una prova Sulle stesse strade o quasi del Giro d'Italia Perché faremo il Duron, faremo l'Auco, faremo Ravascletto E faremo anche lo Zoncolan Quindi diciamo che l'80% del percorso è simile a quello dello Zoncolan Questo è il percorso extreme Poi abbiamo il percorso lungo Che però non comprende lo Zoncolan Che però ha sempre 140 km con credo 3.000 m di dislivello Poi c'è il percorso corto Che è lo stesso ma senza la salita paulare del Duron E poi invece il ciclo escursionistico Che fa il Giro del Lago di Cavazzo Si parte da Tolmezzo Si fa il Giro Lago Ci si ferma la centrale A2A per un rinfresco E poi si rientra Questo è aperto all'A-Bike Quindi chi è il possessore dei bike può anche fare questo percorso Perfetto Gianluca Di Stefano Dicevamo prima dei partecipanti Ovviamente questo ricco menu Che unisce sport, cultura, spettacolo e quant'altro Porta poi atleti anche provenienti da fuori regione A cimentarsi in questi percorsi Sì, allora il gemellaggio Sì e parliamo di un gemellaggio importante Il gemellaggio ideato, studiato In particolare dal dottor Cainero È nato essenzialmente per promuovere Coinvolgere sia lo Zoncolan e il Monte Fuji Due realtà mondiali Molto distanti Però in realtà vicine Unite dal sport Anche perché noi che l'abbiamo provato due anni fa Ah, ok Sono due salite molto simili anche a livello altimetrico Dipendenze Anche se lo Zoncolan è un 10% più duro del Monte Fuji Anche se uno è un po' una montagna per sport L'altro è anche una montagna un po' culturale per il Giappone Comunque un gemellaggio di montagna Una montagna sacra Il Monte Fuji per loro è intoccabile Infatti anche utilizzare il percorso Ci vogliono tante autorizzazioni Non è così semplice andare in bicicletta su Monte Fuji Il gemellaggio sta dando tantissimi frutti anche a livello commerciale Infatti l'anno scorso la regione Friuli Venezia Giulia E la prefettura di Shizuoka Hanno fatto dei contratti commerciali molto importanti Per quanto riguarda gli atleti che saranno alla partenza quest'anno Abbiamo già nella start list tantissimi francesi Austriaci, Sloveni, Croati I francesi si preparano poi che hanno il loro giro E naturalmente tantissimi italiani Contiamo di avere dai 700 ai 1000 partenti Siamo già un buon numero Direi che siete una bella squadra Quattro anni fa mi dicevate prima è nata questa idea di questo gemellaggio E quindi il prossimo anno tocca a voi Voi siete stati l'anno scorso No quest'anno tocca a noi Quest'anno in ottobre andremo noi da loro Come sono stati l'anno scorso loro da noi Noi abbiamo l'esperienza di due anni fa Ma il Giappone è divertente È un po' particolare ma è stata un'esperienza bellissima Immagino Poi è molto bello poter abbattere i confini e le distanze Attraverso lo sport Aiuta molto lo sport E come diceva Gianluca Lo Zoncolan e il Monte Fuji Anche a livello ciclistico Sono abbastanza simili Un po' meno difficile il Fuji Ma non è molto lontano dello Zoncolan Quindi Lo sport poi avvicina Lo sport unisce e avvicina Allora naturalmente per chi non è un atleta E non come me ad esempio E non ha molta dimestichezza con queste distanze Queste pendenze e quant'altro Come vi hanno detto i nostri ospiti Carnia Classic International è molto di più di una gara Ci sono tanti eventi dedicati al pubblico Alle famiglie, ai bambini Potete consultare il calendario C'è un sito www.carniabike.it Dove trovate tutte le informazioni C'è qualcos'altro da aggiungere? Sì Dobbiamo aggiungere che la domenica Una volta partiti gli atleti della Carnia Classic Noi abbiamo un gemellaggio con gli amici di Buia Della Buiese E faremo una Kermes per i ragazzi Cioè una gara per tutte le categorie giovanili Che si corre anche questa nel centro di Tolmezzo C'è un anello proprio E quindi completerà diciamo Dalla partenza ai primi arrivi della Carnia Classic Quindi completiamo anche questi buchi Per poter sempre offrire qualcosa di più E quindi insomma se volete Andate a fare il tifo E poi davvero ci sono tante tante iniziative Per una quattro giorni Da mercoledì 20 fino a domenica 24 Grazie per essere stati con noi Grazie a voi Buona giornata Noi ci fermiamo Piccola pausa pubblicitaria E torniamo subito dopo Grazie a voi Grazie a voi Grazie.